Il treno regionale veloce, 3865, di Trenitalia, proveniente da Messina Centrale, è diretto a Siracusa, delle ore 5.57, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Fiume Freddo di Sicilia, Giarre Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini, Augusta, Priolo Melilli. Il treno regionale, 26576, di Trenitalia, delle ore 6 e 12, proveniente da Catania Centrale, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 12868, di Trenitalia, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Messina Centrale, delle ore 6 e 20, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Taormina, Letoiani, Sant'Alessio Siculo Forza d'Agro, Santa Teresa di Riva, Furci, Roccalumera Mandanici, Nizza di Sicilia, Scaletta Zanclea, Giampilieri, Galati, Tre Mestieri. Il treno regionale, 26577, di Trenitalia, delle ore 6 e 22, per Bicocca, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 26672, di Trenitalia, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Taormina, delle ore 6 e 36, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 3866, di Trenitalia, proveniente da Siracusa, è diretto a Messina Centrale, delle ore 6 e 54, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Taormina, Santa Teresa di Riva. Il treno regionale, 12865, di Trenitalia, proveniente da Messina Centrale, è diretto a Catania Centrale, delle ore 6 e 55, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni, eccetto, Caruba, Guardia Mangano, Santa Venerina, Cannizzaro. Il treno regionale, 12869, di Trenitalia, proveniente da Messina Centrale, è diretto a Catania Centrale, delle ore 6 e 55, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 26579, di Trenitalia, proveniente da Taormina, è diretto a Catania Centrale, delle ore 7 e 11, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 26654, di Trenitalia, proveniente da Caltanissetta Centrale, è diretto a Taormina, delle ore 8 e 25, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, 12846, di Trenitalia, proveniente da Siracusa, è diretto a Messina Centrale, delle ore 8 e 44, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Taormina, Letoiani, Sant'Alessio Siculo Forza d'Agro, Santa Teresa di Riva, Roccalumera Mandanici, Alita Erme, Giampilieri. Il treno regionale, 12872, di Trenitalia, proveniente da Caltanissetta Centrale, è diretto a Messina Centrale, delle ore 11 e 47, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Taormina, Letoiani, Sant'Alessio Siculo Forza d'Agro, Santa Teresa di Riva, Furci, Roccalumera Mandanici, Nizza di Sicilia, Alita Erme, Scaletta Zanclea, Giampilieri. Il treno regionale, 12736, di Trenitalia, proveniente da Bicocca, è diretto a Messina Centrale, delle ore 18 e 43, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Taormina, Letoiani, Sant'Alessio Siculo Forza d'Agro, Santa Teresa di Riva, Furci, Roccalumera Mandanici, Nizza di Sicilia, Alita Erme, Scaletta Zanclea, Giampilieri.